Noi non crediamo più che sia un prendere tempo soltanto dettato da ragioni. A questo punto noi temiamo che ci siano altre logiche che indirizzano la regione siciliana e che indirizzano alcuni soggetti della nostra provincia verso il privato. Così Francesca Valenti oggi commenta gli ultimi fatti, non nascondendo il suo disappunto per un commissariamento regionale, quello che dovrebbe sostituirsi ai comuni anche per la stessa approvazione dell'atto costitutivo della nuova società, che probabilmente non è stato così solerte per come ci si aspettava. Così per come è stata votata la bozza di statuto dell'azienda consortile per la gestione dell'acqua e dal Consiglio Comunale di Grigento, stiamo solo perdendo tempo. Se c'è qualcuno che vuole che a gestire l'acqua sia siciliacqua e che lo dica. Girgentiacque esce dalla porta e un altro privato potrebbe entrare dalla finestra? Non c'è dubbio, io non lo nascondo, non c'è dubbio. Siciliacque? Siciliacque, perché no? Siciliacque è partecipata dalla regione siciliana. Siciliacque che peraltro vanta un credito piuttosto consistente nei confronti della Girgentiacque liquidazione. Certo, è il creditore maggiore della gestione commissariale di Girgentiacque ante interdittiva antimafia, quindi sicuramente è un gestore che conosce le nostre reti, che in qualche modo gestisce, perché gestisce il sovrambito della regione siciliana e quindi è facile. Ma questo non è quello che la provincia vuole, mi pare. O altrimenti se è questo quello che i cittadini vogliono, allora questo è il momento di fare chiarezza. Dobbiamo contarci e fare chiarezza, perché per quello che mi riguarda io non ci sto. Io non intendo più mettere la faccia in una situazione che è stagnante. E quindi lei dice che se questo è l'orientamento, quello di fare in modo che ritorni un privato, lei è pronta a dimettersi dal lati? Sì, noi siamo tutti pronti a dimetterci, perché non consentiremo. Intanto non consentiamo che tutto il lavoro fatto si trascini tanto da diventare inutile, perché è stato fatto un grande lavoro dal direttivo e dal lati e da tutti i sindaci con grande responsabilità. Adesso siamo a un passo e continuiamo a bloccare, cioè non possiamo continuare a perdere tempo. Per tanti motivi, uno fra tutti, la gestione commissariale deve chiudersi, deve chiudersi al più presto, perché non è più in grado di gestire il servizio idrico nella nostra provincia. E Sciacca ne è testimonianza evidente. E se noi non andiamo avanti con la costituzione della società consortile, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. È possibile dire che la richiesta di stabilire e prevedere oneri finanziari al carico del Comune sia un po' quella che era stata fatta qui a Sciacca dai consiglieri comunali di Centro Nese? Sì, ma anche su questo se ne è parlato. I consigli comunali che hanno approvato questo statuto non sono dei consigli comunali fatti da sprovveduti. Noi abbiamo avuto la nomina di un commissario da parte del Presidente della Regione proprio per la necessità di accelerare. Il commissario è stato chiamato con degli obiettivi specifici. Il piano d'ambito in realtà non è stato necessario perché il piano d'ambito ce lo siamo fatti da noi. L'ATI ha dato un incarico e ha prodotto il piano d'ambito che l'Assemblea all'unanimità ha approvato. Quindi non abbiamo avuto necessità di sostegno alcuno con riguardo al piano d'ambito. Dopodiché tra i compiti del commissario c'è quello di sostituirsi ai consigli comunali che non intendano procedere all'approvazione dello statuto e in ultimo anche a sostituirsi ai consigli comunali e ai sindaci che non intendano costituire l'azienda speciale consortile. E noi ancora stiamo aspettando.